Il gruppo di Palo con un nuovo Iversimpli qui nel cuore del Centro Storico di Napoli. Sì, questo è il nostro nuovo Punto Simpli che da oggi prende il via qui nel Centro Storico di Napoli, siamo a pochi passi dal Duomo. È un punto vendita che è centralizzato essenzialmente sulla vendita dei prodotti freschi e freschissimi che rappresentano il fiore all'occhiello del gruppo Oceano e del gruppo di Palo. Continua la crescita quindi acquisite ancora quote di mercato qui anche nel centro di Napoli? Sì, è un'espansione che continua sia all'interno della città di Napoli dove ci saranno anche, a breve sono previste delle nuove aperture, e al di fuori della provincia dove abbiamo aperto poche settimane fa a Mercogliano un Punto Simpli, è previsto prima di Natale ancora un'apertura in provincia di Avellino, quindi l'espansione del gruppo continua nella regione seguendo quello che era il piano di sviluppo che abbiamo iniziato due anni fa con il gruppo Oceano e stiamo portando avanti. Fortunatamente i consumatori e gli imprenditori che ci seguono ci stanno dando ragione su questa nuova formula di negozio e questo non fa che ci dà coraggio e fiducia per le prossime aperture. Allora, lei parla di negozio, dico centinaia di metri di esposizione con un banco salumi e un banco carni al servizio del centro storico. Siamo a Via Cimbri, pochi metri da Piazza Nicola More, nei pressi del Duomo. Tanti uffici, qui un cliente che può essere l'impiegato medio? La formula del punto vendita prevede diverse offerte commerciali, senza dubbio la famiglia è il cliente principale, ma abbiamo strutturato per quanto riguarda il cliente, tra virgolette, impiegato che nella pausa pranzo ha bisogno di quello che serve per il pranzo. Noi abbiamo strutturato un'offerta nel banco gastronomia e anche nel banco ortofrutta con delle insalate, delle tagliate di frutta in modo che possiamo dare un'alternativa al pasto. Questo è un punto vendita che vuole essere di servizio alla clientela della zona, perché è normale, siamo nel centro storico e la presenza di uffici è comunque importante anche per quanto riguarda le famiglie.